E vi faccio vedere qual è il punto critico. Il punto critico è il fatto che sono denti che hanno dei fori passanti. Questi fori passanti possono essere sigillati, eccoli qua, ma ogni volta che io vado a togliere il tappo, devo toglierlo meccanicamente, c'è il rischio che danneggio il dente. Ok, può avvenire questo, perché la protesi è avvitata sopra, vediamo i multi unit qua. Vediamo se trovo un'altra fotografia, che vi mostra sempre questi fori. Ecco qua per esempio ci sono i fori sigillati. Questi fori sigillati, qua per esempio c'è del composito, materiale da otturazione. Questo è adesivo, si intravedono un po', non si intravedono, però ci sono qua un po', qui sotto, vedi questo è l'altro foro. Ci sono dei materiali diversi che si possono utilizzare, e a seconda delle condizioni del paziente, io decido che tipo di sigillo fare al paziente. Io posso avere un paziente con i denti sporchissimi, sporchi, sporchissimi, puliti. Per esempio, c'ho pazienti che hanno tartaro, più fumano, più non utilizzo corretto degli strumenti. O proprio, proprio non utilizzo degli strumenti. Utilizzo strumenti igiene. Poi c'ho pazienti che puliscono e potrebbero passare a essere pazienti puliti. Qua devo intervenire ogni quattro mesi, qua devo intervenire ogni sei mesi, qua basta anche una volta all'anno. Ok, ci sono. Se io devo intervenire ogni quattro mesi, non sigillo, che ne so, il muro col cemento. Metto la carta di apparati. Perché se no, vi ho detto prima, c'è il rischio che danneggio i denti vicini. Qua posso usare, per esempio, il cavit. Che è un cemento che con l'apparecchio che vibra, del dentista, per fare la pulizia, in 10 secondi si stappa. Poi, posso usare qua il Fermit, che è una resina gommosa. Che, se io lo vado a punzecchiare, tiro via, è gommosa, è tipo un'otturazione gommosa, salta. E questa mi dura più o meno un anno, quindi se io lo vedo ogni sei mesi, può succedere che si stappa. E' un problema quello? No, non è un problema. Si va a centroassistenza e si ritappa quello. Un secondo si tappa. E' molto più problematico quando io vado a tappare, magari, dei denti molto sporchi, in maniera definitiva. Perché lì devo poi andare a fresare, per togliere l'otturazione. E c'è il rischio che non freso nel punto giusto. Delle volte si vedono questi fuori perché mettiamo dei compositi di un colore diverso, proprio più scuro, per, in caso di emergenza, capire dove devo svitare. Ok, se invece vado proprio a far scomparire e non si capisce dove stanno le viti, anche se faccio la radiografia, è difficile andare a fresare proprio in quel punto. Poi c'è un trucchetto, basta con uno strumento metallico passare sul composito e quello si colora di grigio. Quindi vedi esattamente, tipo carta carbone, rimane il grigio dello strumento metallico, con uno spilletto che usa il dentista. Se invece qua, composito, paziente che pulisce bene. Quando è che io decido questo? A visita il controllo. Ok. Dopo i sei mesi, allora decidiamo come tappare questi buchi. Se tapparli in maniera definitiva, semidefinitiva oppure provvisoria. Che si può intervenire. Bisogna capire dall'altro lato con chi sto giocando. Però lo scopo è motivare il paziente. In modo a portare i pazienti tutti qua. Ci possono essere poi dei pazienti che proprio non ne vengono fuori, bisogna chiuderli in quella maniera. Ok. Perché sono dei pazienti che hanno dei limiti. Grazie.